E' 50 anni che sto qui, una schifenza di questo genere non l'ho mai vista. Prima poco, però almeno due o tre volte all'anno venivano a giustarla. Adesso non si vede più nessuno. Sono solo alcuni dei tanti residenti esasperati che da diversi anni denunciano lo stato di abbandono della strada in località San Cesario, nella frazione di Carrara. Il percorso si collega con strada comunale Sant'Elia e come raccontano gli abitanti, è diventato impossibile praticarlo tra buche, affossamenti e zone anche pericolose. Risiedo a San Cesario, qua nella zona di Montepulito dal 98. La strada è sempre stata in queste condizioni, creando disagio, pericolo e soprattutto danni alle autovetture perché buche, controbuche, avvallamenti, sospensioni, gomme e tutto il resto è una cosa che non è decente, per cui gradiremmo molto. Un intervento radicale che sistemi per un periodo abbastanza lungo lo stato della strada perché i rattoppi fatti così sul lamentele giornaliere durano il tempo di una settimana e dopo le buche si riaprono in continuazione. Per quanto sia ci muoviamo abbastanza di frequente, per cui non è parto al mattino, torno alla sera, devo andare a fare la spesa, devo andare in comune, devo andare in banca. I viaggi, almeno per quello che riguarda la mia persona, sono frequenti nella giornata e quindi il disagio si sente bene. Inoltre, da come si può notare da queste immagini, sono diversi gli avvallamenti al lato e al centro della strada. Questo ha favorito lo sfregamento nella parte sottostante delle auto e dei furgoni creando diversi problemi, per non parlare delle numerose buche. Frequento spesso questa strada qui, mi è capitato già due volte di portare la macchina dal meccanico e tutte e due le volte gli ammortizzatori erano rotti e chi ha pagato? Purtroppo le mie tasche. È invivibile, è una strada veramente pietosa. Sono circa 50 le famiglie interessate che frequentano questo tragitto e ci sono anche giovani che recentemente si sono insediati in questa zona. Io sono una new entry, è evidente che siamo qui a lamentarci per le strade che sono in condizioni pietose a dir poco. Non si può pensare di venire a rattopare una buca e lasciarne aperte quattro. Ci vuole un intervento radicale, le macchine si rompono, non è una strada di collegamento. Ci sono residenti, quasi tutte le case sono abitate qua. Il problema di moltissimi residenti è che ovviamente con queste buche ogni tanto una si prende perché non ce n'è una ogni tanto, è pieno, si prende, si buca una ruota, si rompe l'ammortizzatore, le sospensioni. I problemi ci sono in continuo. Chiediamo quindi di intervenire con urgenza anche perché è difficile anche mantenere la carreggiata giusta qua. È troppo problematico. Proseguendo invece per strada Sant'Elia la situazione è anche peggio. Infatti nel tratto dove la strada diventa bianca si sono formati dei veri e propri canali di scolo delle acque piovane in mezzo alla carreggiata. Pure il trattore che vedete in questo video fa difficoltà a percorrerla. Risiedo qui dal 2010. La soluzione migliore per questa viabilità sarebbe di fare l'asfaltatura grattando l'asfalto che è faticente dove ci sono delle buche veramente notevoli e anche ad allungare l'asfaltatura di alcune centinaia di metri perché nella strada bianca dove vivono delle persone, delle case, delle famiglie quando piove ci sono delle scanalature impressionanti, delle voragini dove necessita immediatamente il più presto possibile un intervento da parte dell'amministrazione. Ad intervenire su questa vicenda è stata anche Forza Italia Fano. Tutta questa strada qui è stata trascurata. Avevamo già fatto come Forza Italia una lettera al Comune circa due mesi fa e non abbiamo avuto nessuna risposta. Il Comune ha poi mandato a chiudere delle buche ma qui la situazione è tragica. Ci sono degli avvallamenti non indifferenti sembra una perdita di acqua, sembra. È una situazione che va in qualche modo sistemata. È il primo possibile. Non perché ci sono le elezioni ma perché c'è una necessità.